buongiorno dalla basilica di san michele arcangelo oggi sei ottobre sei in alta uniforme ferdinando che cosa ci sarà fra breve alle 10 tradizionale messa che conclui i festeggiamenti a ogni anno salderebbe il nostro padrone san michele arcangelo messa con la partecipazione anche visto che c'è lo stendardo anche l'amministrazione comunale festeggiamenti di 2024 ultimo appuntamento soleno giornata dei maritti